Buon pomeriggio, maestro, vi spiego come è fatto il disegno. Ci siamo io e mamma al centro del mondo. Io ho un cellulare che sto facendo la videoconferenza. Poi ci stanno tutti i miei amici intorno, ma non ci danno la mano, stanno distanti. E tutti quanti abbiamo un cuore, infatti la canzone dice vi porterò nel cuore. E poi ci sei tu e la maestra Silvia. Un bacione, ciao! Non ha mai confini, non dobbiamo aver paura. Torneremo a ridere e scherzare. Ci manchiamo, ci cerchiamo. Tra messaggi e video al cellulare. Vi porto nel cuore, anche se quei banchi sono vuoti. Che dono che ho avuto, tutta questa vita, le do pieni voti. Amico è una parola che vola tra i pianeti. Non possiamo andare a scuola, non possiamo ancora stare insieme. Salutiamo le maestre, da uno schermo vi vogliamo bene. Mi porto nel cuore, anche se quei banchi sono vuoti. Che dono che ho avuto, da questa vita, le do pieni voti. Amico è una parola che vola tra i pianeti. Amico è una parola che vola tra i pianeti. Sì. Amico è una parola che vola tra i pianeti.